oddio caro no che ci fa una domanda no anche quei signori la mi volevano rapire chi è quelli la quelli collaudi che sono appena andati via vabbè bucce di frutta cazzaro ecco gli ho dato dieci mesi allora ti stai calmo per ammettite le strisce che dati blocca delle ruote devo stare calmo però c'è la ciocio il menù c'è il menù lo posso fare da lontano ti prego voglio dire che sparisce che ti ha detto fa vedere lui cosa mi fa no tranquillo ti faccio vedere io però io non ho tenuto a posto i soggetti sono armati dentro collega 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 venga qua venga qua come affermativo 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 sì l'ho arrestato era troppo lontano mi ha detto nessun giocatore nei vicinanzi poi io non c'è la tua cosa che va a fare discorri corri sopra 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 ma l'ho arrestato la loro macchina però la loro macchina più veloce e loro due hanno incarcerato a due agenti ma che cazzo dice no 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 non eravamo noi non eravamo noi siete sicuri che erano due pelati non eravamo noi voi dimmi il porto d'armi lo faccio subito al momento allora fai lo fai qua al volo alfa grande ragazzi cari cari ci avete da mangiare ma dov'è andare dove tu il porto d'armi a lui tu lo vuoi sì o no che cosa sì lo vuole lo vuole dai via via a posto andiamo slash story mode e ho fatto non l'ha fatto bene storico la ypsilon è la è tutto attaccato l'ho fatto attaccato il muscolo effetto senza slash ovviamente poco che ora l'ha fatto ora l'ha fatto quindi ho addirittura di farmi mi sto a zitto faccio faccio tutto quello che voglio tempo ragazzi 20 ma ha detto un superiore che quando facciamo chi è azione in pausa ma per me tutte le azioni in pausa sono in assistenza scusate ragazzi ma io non ce l'ho però dovrò di state fermi con lui un attimo però ha buttato in carcere uno per venti mesi ma il resto qualche pezzo che succede gestione prigione ok però ha aperto una gestione prigione 10 mesi per chi l'ha mandato in carcere l'ha mandato in carcere ma lo devo manda a lui boom ho mandato un'altra in carcere non mi li manda tutti in carcere va a fare un suo f8 il jail menu no non va non va non va dimmi il numero dell'altro fatti dire il numero dall'altro ho mandato un altro in carcere raga ma ce n'è due in carcere l'avete mandato a capo perché hai mandato madonna? eh perché dovevo mandato un te ho clic però sto mandando tutti in carcere però non l'ho capito ho clic lagga madonna raga andiamo in pattugliamento dai in pattugliamento pattugliamento aspetta che mando quest'altro io l'ho mandato in carcere perché c'era uno bravo cioè erano due che full mandavano in carcere per 99 minuti ok e li hanno bannati e quindi li hanno bannati sto parlando di me ma non hai capito che non è così vabbè lascio stare no aspetta no andiamo in Adam provati devo fare una robacca è stato scritto il ragazzo se vuoi viene anche tu però ma chi cazzo eramo? cosa dobbiamo fare? e quei due che facevano io vorrei andare in Adam raga andiamo in Adam raga vai vai andate voi due in Adam se no vabbè fatti smanettare aspetta fatti smanettare ok eh vabbè ok mi hanno andato in carcere un altro è perché ragazzi uno doveva andare aspetta che ne mando quest'altra fra eccolo ma che dici? ma perché? perché mi hai messo in prigione ma mica te è criminale no no io ho ancora sei minuti di carcere dove non ma vaffanculo di nuovo in carcere nel prossimo episodio l'ho licenziato l'ho recuta l'ho recuta Grazie a tutti.